Come fare a rinnamorare gli uomini? Quali sono i dieci segreti? Beh, intanto il presupposto di fondo, come direbbe Giorgio Cameli, è che ci sono due esigenze. Le esigenze logico-razionali e le esigenze emozionali. E in parallelo ci sono anche le esigenze istintive, quindi il nostro cervello è in triade fondamentalmente, perché abbiamo una parte, una sfera logica, una sfera emotiva e una sfera istintiva. Quindi se volete piacere un uomo, quando voi vedete una persona vecchia e malgascione che non siete altre, quando voi vedete un uomo, dovete pensare che è uno e trino. Cioè, voi ne vedete uno, ma è come se dentro ci fossero tre personcine. C'è la sfera emotiva. Visualizzate, fate questo esercizio perché vi servirà molto. Quando incrociate un uomo, o anche per gli uomini o una donna, immaginatelo proprio dentro come se ci fossero tre personcine. Una parte emotiva, una parte logica e una parte, diciamo, istintiva. E queste tre parti, a meno degli illuminati, ma voi più che illuminati siete disagiati, siete disagiati, ci sono, diciamo, queste tre parti con tre teste. Hanno spesso esigenze diverse. Hanno spesso, oh, un saluto anche a Andrea Giovani. Hanno spesso, dentro una donna ce n'è più di tre, dice la nostra Green Apple. In effetti, dentro una donna può essere anche più di tre. Però, diciamo che già considerarne tre. Va già bene, un saluto anche agli anadami. Immaginatevi, quindi, queste tre personcine. Perché se voi volete sedurre una persona, un uomo o una donna, dovete andare a soddisfare queste tre parti, tenendo presente che spesso hanno esigenze contrastanti, per cui bisogna, come si direbbe in gergo, dare un colpo al cerchio e un colpo alla botta. Cioè, bisogna gratificare tutte queste tre le parti. Ma il problema qual è? Che se gratifico una parte, ne penalizzo un'altra. E quindi dobbiamo innescare, tenere presente un altro fatto fondamentale, che è la nostra parte logico-razionale. Quella parte per la quale due più due fa quattro. Sempre quattro. E tutto quello che gli viene presentato come due più due, diverso da quattro, lo prende e lo butta nel cestino. Mentre per la parte emotiva, due più due può fare anche quattro. Oh, ecco la nostra stella marina. Due più due può fare anche quattro. Ma due più due, per la parte emotiva, potrebbe fare sei. Potrebbe fare diciotto. Potrebbe fare ventiquattro. Potrebbe essere un rituale per togliere il malocchio. Due più due. Mentre per la parte emotiva, due più due fa sempre, o la passera, diciamo così, per gli uomini, due più due fa sempre la passera. Per la parte, scusate, per la parte istintiva. Perché la parte istintiva ha sempre due esigenze. L'esigenza di sopravvivenza individuale, e quindi l'aggressività, ma l'esigenza, ma l'esigenza di sopravvivenza della specie anche. Quindi l'attività è riproduttiva. Queste c'erano anche le donne, ma in modalità diversa. Quindi, se vuoi essere duro un uomo, quello che devi fare è soddisfare tutte queste parti. Allora, i consigli quali sono? Bene, gratifica logicamente e penalizza analogicamente. Cosa vuol dire gratifica? E poi, diciamo, ogni tanto stimola sessualmente. Questi sono in linea dei massimi tre principi. Cosa vuol dire gratificare logicamente? Beh, a livello logico, falla sentire, primo consiglio, ammirato ed apprezzato. A livello logico, un uomo, se tu vuoi sedurlo, a livello logico, perché la parte logica vuole certe cose, fallo sentire ammirato ed apprezzato. Ed è importante questo. Perché se tu entri subito, a livello logico, su un piano conflittuale, quella persona lì si metterà, diciamo, simmetrico alle tue esigenze. Non sarà complementare. Si incazzerà. Inizierà a dirti questa cosa non va bene, quest'altra cosa non va bene. Si creerà uno scontro. Mentre su un piano logico, devi farlo sentire ammirato ed apprezzato. Che bella cravatta che hai, se c'ha la cravatta. Gli apprezzamenti devono essere fatti... Oh, sono in Calabria. Bene. Gli apprezzamenti devono essere fatti soprattutto non tanto sulla persona, ma soprattutto... Su qualche caratteristica, qualche accessorio. Ma il suo discorso vale per una donna. Ad esempio, la nostra Elisabetta Donne Over 40, iscrivetevi al canale di Elisabetta Donne Over 40, che ad esempio, tu le fai un complimento. Oh, che bel vestito che hai, che belle scarpe che hai. Un po' di love bombing, come dice la nostra Diana Dami, sul piano logico va bene. Però è ovvio che questo deve essere un bilanciamento tra quello che dai a livello emotivo. Perché su un piano emotivo, ovviamente, troppi complimenti, troppi apprezzamenti, troppa stima, troppa considerazione, ma la parte emotiva non gli piace. E in effetti, come dicevamo prima, voi carampane, malgascione che non siete altro, ma anche le malgascette, perché ho fatto prima l'intervista alla carinissima new fotomodella Sara Colombi, anche lei diceva che sì, magari gli piace un ragazzo, cioè, aveva a disposizione un ragazzo bello, bravo, disponibile, e si va a innamorare del figlio di mignotta, diciamo, stronzo, no? E questo è un dato di fatto, no? Perché voi, carampane, vi innamorate, cari malgascione, del pezzo di merda, e fate anche una selezione, no? Una selezione internazionale, per cui tutti i bravi ragazzi li scartate, e del pezzo di merda vi innamorate. Perché non avete innescato, questo pezzo di merda è stato bravo a non farvi innescare meccanismi di difesa, perché la parte logico-razionale invece è brava, diciamo, nell'innescare meccanismi di difesa. Per la parte logica, ovviamente, dicevamo prima, 2 più 2 fa 4, e quello che viene presentato come 2 più 2 diverso da 4 lo butta nel cestino. Quindi, è la nostra sfera logico-razionale che cerca di difenderci da, che cerca di difenderci da, diciamo, prese per il culo. Questo è, iscrivetevi al canale di Elisabetta Donna 940. Esatto, uno si innamora, come dice Giorgio Cammini, della parte emotiva nascosta dal padre negli imprinti. Esatto, c'è una parte emotiva che potrebbe andare alla ricerca compulsiva anche di stati di sofferenza. Per cui, se tu vuoi far innamorare, devi andare a stimolare quella parte lì. Cioè, se, ad esempio, un uomo, quindi, primo punto, fallo sentire ammirato ed apprezzato, perché, in questo modo, eviti che si inneschino meccanismi di difesa. Secondo punto, diciamo, perché bisogna, diciamo, colpire tutte le parti. Secondo punto, cerca di capire quali sono i turbamenti che ha, perché se tu non capisci quali sono i turbamenti che ha, non riesci a fare niente. Per capire quali sono i turbamenti che ha, devi capire quali sono le sue sofferenze vissute nell'infanzia, perché poi noi spesso andiamo a ricercare questo tipo di sofferenza, no? Per cui, cerca di capire attraverso il linguaggio non verbale e qua ti suggerisco veramente di, eh, che cazzo vuole Stella Marina? Ma quando qualcuno dà la colpa agli altrui per le cose che gli succedono che bisogna trattarlo, beh, è un etero attributivo, è un etero attributivo, no? È un etero attributivo, quindi, come bisogna trattarlo? Devi trattarlo come un etero attributivo, quindi devi capire qual è la sua, diciamo, il suo turbamento è prima dai e poi togli, l'etero attributivo bisogna prima dare e poi togli, quindi gliela fai annusare e poi gliela togli. Comunque, tornando al concetto, tornando al concetto di fondo, devi imparare, diciamo, a, esatto, se volete imparare fate il corso sul canale YouTube Massimo Terramasco, vi iscrivete al corso base e queste dinamiche qua vengono spiegate in dettaglio, come dice l'onoressa, quindi, fate il corso diciamo, vi abbonate sul canale Massimo Terramasco al corso base e bisettimanalmente faccio le lezioni su queste tematiche. Comunque, cercate di capire, diciamo, a livello non verbale, diciamo così, qual è l'imprinting vissuto dalle persone perché lì si annida il, diciamo, perché lì si annida ormai l'onoressa è partita, dipende se è la colpa d'altro, sì, adesso è l'onoressa fresca del corso, quindi sa tutto, sa tutto, perché c'è differenza tra iperlogico e emotivo, perché tra colpa e causa, perché per l'iperlogico, diciamo, in realtà può dare la colpa agli altri, cioè, colpa sua a causa degli altri, ad esempio, io arrivo in ritardo a un appuntamento, è colpa degli altri, del traffico, è causa del traffico, però è colpa mia che non sapevo, non ho tenuto conto della variabile traffico, per cui qua il discorso diventa molto più complesso, quindi in questa, in questa lezione, in questa, in questa live, ovviamente, che è una live generica, resto un po', non scende in profondità come in un corso, però, tenete presente questo, no, che dovete servire due padroni, anzi, tendenzialmente tre padroni dovete servire, quindi, è importante, è importante, comunque, da questo punto di vista, poi anche Stella Marina fa il corso, ma non ci capisce una mazza, scherzo, scherzo, comunque, quindi, devi capire qual è l'imprinting per avere il comportamento giusto, quindi, nell'imprinting cosa ti dice a livello non verbale? Beh, ti dice, ad esempio, se hai vissuto una conflittualità prevalentemente materna, prevalentemente paterna, se hai vissuto una conflittualità, diciamo, se è una struttura egocentrica, c'è se è subito il tradimento, puoi capire qual è il tipo qual è il tipo di stimolatore, lo stimolatore inconscio, insomma, ti dà, se è iperlogico, se è emotivo, ti dice se si aggancia più sul desiderio o sul possesso, insomma, nell'imprinting ci sono tutta una serie di informazioni, no? l'imprinting soddisfa la parte emotiva fondamentalmente, perché poi noi di fondo ci innamoriamo, l'innamoramento vero e proprio avviene su un piano emozionale fondamentalmente, quindi, il secondo punto è veramente basilare, no? Capire qual è l'imprinting della persona, capire qual è l'imprinting della persona. Come terzo punto, e questo invece va a servire nuovamente la sfera logico-razionale, devi trovare e soprattutto con le persone capire con le persone diciamo quali sono, ad esempio, se una persona emotiva, se una persona iperlogica, qual è il suo grillo parlante, cioè qual è quella persona, il grillo parlante è quella persona a cui lui fa fidabilità, no? potrebbe essere un genitore, ad esempio, spesso il grillo parlante è un genitore, che è il grillo parlante? È una persona della quale le persone emotive, le persone iperlogiche si fidano, no? Per cui è molto importante capire qual è il grillo parlante. Insomma, detto in altri termini più semplici, cerca di andare d'accordo con i suoi amici e cerca di capire tra i suoi amici quello che ha maggior peso, se fosse una persona iperlogica avrebbe sicuramente un grillo parlante, cioè una persona della quale allora ci dice Giorgio Cameli una è più innamorata quando manca sempre qualcosa per ottenere il massimo che sogna. Eh sì, esatto, è sempre la mancanza, la distonia che fa innamorare. Di ciò però, come attività, quella di andare d'accordo con i suoi amici, di andare d'accordo con la madre soprattutto, perché se la madre fosse il grillo parlante, tu cosa devi dirgli? Devi dirgli beh ma guarda se tu ti inneschi i sensi di colpa, no? Se tu ti comporti in questo modo, se tu ti comporti in questo modo, pensa come soffrirà quella povera donna di tua madre. Oppure se il grillo parlante è un amico, gli puoi dire ma hai chiesto a tizio, hai chiesto a Caio se fai bene a fare questo, no? Quindi ecco, questo è un qualcosa di molto importante, un qualcosa di fondamentale, no? Poi è ovvio che come diceva Giorgio Cameli il cibo è importante. Tenete presente, diceva Giorgio Cameli prima, per una donna saper cucinare io credo è fondamentale. Questo è fondamentale perché il cibo è visto come un atto d'amore, tra l'altro una donazione, quindi io suggerisco a tutte le donne di imparare a cucinare se non lo sapete fare imparate a cucinare perché la bellezza passa ma la fame resta, quindi è sempre presente sì, da un punto di vista emotivo amplificare il turbamento, come dice Federica Black Panther bisogna imparare a riconoscere il turbamento e ad amplificarlo. Questo serve per far innamorare, questo serve per farlo innamorare, questo è fondamentale. e quindi diciamo se andate a vedervi diversi video, seguite i miei corsi, vi do tutte le istruzioni su come fare per far innamorare amplificando i turbamenti, però adesso qua volevo anche darvi dei consigli per quanto riguarda la parte logica e per quanto riguarda la parte logica il cibo come atto d'amore è molto importante, cioè se tu sai cucinare beh, hai una skill in più, hai veramente una skill in più, saper cucinare è molto importante e ovviamente è molto importante anche andare d'accordo con gli amici e molto importante anche andare d'accordo con la sua famiglia e nella sua famiglia la madre per un masco di solito è sempre un elemento importante, potrebbe anche essere conflittuale madre perché abbiamo visto potrebbe essere anche conflittuale madre. Un giorno hai fatto un piatto prelibato, il giorno dopo pane e prosciutto, esatto, pane e acqua perché è il rinforzo intermittente ma certo il rinforzo intermittente può essere fatto come dice Giorgio Camelli anche attraverso il cibo. Massimo cambia idea sul matrimonio se trova una che sa cucinare e beh insomma comunque tenete presente questo che la bellezza passa ma la fame resta insomma io so buttare la pasta più agli scattori di tonno vado bene prof vai bene per che cosa vai bene come compagna di processione vai bene puoi andare bene come compagna di processione se sai buttare la pasta per le scatole di tonno comunque teniamo presente questo e questo è un altro punto poi come direbbe la nostra come direbbe la nostra Malga Shona non è la Malga Shona numero due ma sempre Malga Shona è Elisabetta da 940 ci deve essere una perfetta combinazione tra sensualità tra essere sexy ed essere diciamo istituzionale perché se sei troppo sexy diventi vieni inneschi meccanismi di difesa e a casa che c'hai la coca no la coca a casa mia cucina mamma oh che c'hai la coca no a casa mia cucina mamma perché come direbbe Elisabetta da 940 deve essere sexy ma non puttanone da corsa perché se sei un puttanone da corsa inneschi meccanismi di difesa quindi è anche importante questo a un uomo piace una donna sexy sicuramente ma sicuramente anche diciamo ecco una cosa fondamentale sembra una banalità ma l'alito è fondamentale il gusto se arrivate a baciare un uomo piuttosto non baciatelo se avete i topi di fogna in bocca sembra una cosa strana ma se tu hai i topi di fogna in bocca evita di baciare qualcuno perché vai a creare subito degli ancoraggi emozionali negativi cioè quello ti bacia la prima volta tu hai i topi di fogna in bocca a lui vengono i conati di vomito e poi dopo non importa più che non importa più che tu hai la bocca bella pulita e tutto se lui ha creato questo ancoraggio emozionale con i topi di fogna la prossima volta anche se lo bacerai li verranno di nuovi i coronati di vomito proprio per un meccanismo per un meccanismo diciamo per un meccanismo legato al diciamo al agli ancoraggi emozionali l'ancoraggio emozionale l'associazione tra un'emozione l'associazione fondamentalmente l'associazione tra un'emozione e una sensazione che è un ancoraggio emozionale quindi gli ancoraggi emozionali cenestesici sono molto molto fogna di Calcutta ad agosto a lontano l'anito che emana aromi di fogna di Calcutta ad agosto a lontano questa mi piace questa metafora di Andrea Giovani la fogna di Calcutta ad agosto però è un qualcosa che sembra una cosa strana però dovete evitare veramente cioè questo sembra una cazzata ma gli ancoraggi emozionali gustativi sono molto potenti sono davvero molto potenti quindi cercate di evitare anche perché il bacio è comunque una comunicazione molto importante no? baciare è una comunicazione molto importante una comunicazione molto profonda perché entrano diversi sensi attraverso il bacio entra il senso gustativo e quindi andate anche dal dentista abbiamo qua il dentista dottor Giorgio Cameli insomma anche avere i denti cariati avere i denti marci diciamo quindi andate da Giorgio Cameli vi fate mettere a posti i denti poi andate da Elisabetta a donne over 40 vi fate vestire da diciamo da donne come si deve non puttannone da corsa e questo è importante no? il bacio come dice Simona Brun è molto più intimo del sesso non a volte è più intimo del sesso è sempre molto più intimo del sesso un saluto Elisabetta infatti infatti è pronta la carbonara ma che mangi la carbonara a quest'ora vecchia carampana cosa mangi la carbonara la carbonara ma tu mangi la carbonara alle 10 e mezza ma poi ma tutte quelle lì sono tutta ciccia è tutta cellulite come fai a mangiare la carbonara alle 10 e mezza è tutta cellulite quella alle 10 e mezza devi farti la tisana vecchia carampana come fai a mangiare la carbonara alle 10 e mezza ma diventa tutta cellulite carampana che non sei altro comunque alle 10 e mezza devi bere la tisana e andare a dormire i cipollotti di tropea vanno bene posti incontro intimo esatto i cipollotti di tropea esatto comunque edis bruci grassi in fretta esatto bevete la tisana a quest'ora voi anziane bevete la tisana voi donne anziane alle 10 e mezza non puoi farti la carbonara alle 10 e mezza la tisana la tisana vabbè comunque tenendo andando avanti col discorso il dentista è importante essere elegante è importante e diciamo questo è un punto fondamentale no un altro punto molto importante è quello di essere un po' imprevedibile perché gli uomini tendono a per un effetto che si chiama effetto Zygarnik che è il nome di una psicologa essere imprevedibile non essere non essere come dire rintracciabile dal radar del maschio no perché il maschio l'uomo tende ad avere sempre un radar e cerca di bloccare diciamo così bloccare la persona al cenale 19 con meritelle dentiere disinfettante esatto ne c'è per sedere il post per la cucina oh Robertino Pagano ciao Robertino eh no senza cognome Robertino e basta mi sfugge mi sfugge sempre Robertino solo Robertino solo Robertino Robertino dall'Australia però ehm comunque ehm donna che ride mutanda che cala giusto giusto donna che ride mutanda che cala eh comunque gratificare la parte logica sempre cucinare di un autofagrante è sempre imprevedibile no è amplificare i turbamenti certo hai perso amplificare i turbamenti amplificare i turbamenti che è la cosa importante perché se tu puoi fare tutto quello ma se non amplifichi i turbamenti non ottieni niente quindi l'amplificazione dei turbamenti che sarebbe il secondo punto è fondamentale perché come primo punto devi gratificare la parte logica che poi si può fare anche indirettamente attraverso tutte le strategie della pianelle come il mirroring il ricalco sono tutte strategie diciamo indirette per gratificare la parte logica però come secondo punto c'è l'amplificazione del turbamento poi ovvio che come corollario c'è cucinare avere la vita a posto essere imprevedibile essere un po' misteriosa essere diciamo ti sei persa anche ti sei persa anche il discorso legato all'abbigliamento no perché gli uomini sono spesso gli uomini sono spesso molto visivi quindi avere anche un abbigliamento per essere sexy e non immignottita e non puttanone da corsa sexy al punto giusto come direbbe adesso lì la nostra Elisabetta che si sta sbaffando la carbonara questo è un qualcosa di molto importante no quindi è anche quello da un punto di vista visivo è molto importante poi un'altra cosa diciamo che va bene va bene per quanto riguarda la sfera logica ma è fondamentale diciamo farti percepire come una donna affidabile e come fai a farti percepire come una donna affidabile beh sì può andare bene essere un po' dittatoriale può andare bene adesso rispondevo a un passano a Federica però stavo dicendo come fai a farti percepire come donna affidabile confidagli qualche segreto perché se tu gli confidi qualche segreto e gli dici guarda ti dico a te questa cosa insomma gli confidi qualcosa che poi ti puoi anche inventare non importa ma la cosa importante è che lui senta che tu sei una donna comunque affidabile e lui ti confiderà qualche cosa e tu non farai come la portinaia che va a spiattellarla tutti perché molte donne poi fanno le portinaie vanno a spiattellare a tutti le cose quindi evita di fare la portinaia perché le portinaie portinaia nel senso di quella pettegola ecco le donne donna pettegola donna non lo so donna malgasciona è assolutamente negativo questo se lui ti percepisce come affidabile potresti diventare anche una coregista non la coregista poi quando andremo a parlare delle triadi nel corso tanto Stella Marina non capirà un cazzo perché le triadi sono ancora più complicate delle strutture quindi quando parleremo di triadi la nostra Stella Marina non capirà una minchia ma comunque noi ne parleremo e quindi è importante diciamo imparare a gestire queste situazioni è importante imparare a diciamo così a farti percepire come una persona affidabile perché entri come coregista cioè la coregista è una diciamo è una funzione nella quale diciamo tu vieni percepita come una una persona significativa un un duplicato diciamo così brava Stella ma Stella Marina è la top è la top io lo amo io lo amo e quindi la coregista è una figura importante che sarebbe un duplicato dell'adulto significativo perché nella triade ci sono tre figure importanti che sono l'adulto significativo il regista e diciamo è l'elemento l'elemento trasgressivo la parte trasgressiva la coregista non va bene ma la coregista va bene perché rappresenta un duplicato di una persona importante quindi questo è importante è un altro quindi fai vedere che sei una persona affidabile confida un segreto e questo è un altro punto importante e poi un'altra cosa che suggerisco il decimo il decimo segreto diciamo il decimo consiglio è quello di ogni tanto diciamo saper introdurre i giusti antagonisti gli antagonisti vanno utilizzati gli antagonisti vanno utilizzati nel modo corretto no oh Robertino io cucino riso pollo uova salmone e cereali e basta va bene ok quindi utilizzare diciamo come dicevo queste tattiche queste queste scopo del compasso per riprese ah il coregista può essere si scopo del compasso per riprese queste queste tattiche queste strategie servono per perché piacciono gli uomini ovviamente poi c'è la sessualità no la sessualità è importante però la sessualità non è detto che facci innamorare anzi di solito non lo fai innamorare tenete presente il detto che dico sempre è più facile che un uomo si innamori desiderando di fare l'amore che facendolo quindi se tu riesci a mantenere questi dieci punti a portare avanti questi dieci punti che vi ho elencato diciamo che riesci a piacere sicuramente a qualunque uomo non trascurare la parte logica soprattutto se hai delle idee diciamo di costruire un qualcosa valuta anche quelli che sono i tuoi valori perché è importante capire anche se ne vale la pena quali sono i tuoi valori quali sono i valori di questa persona quindi questo è un altro punto è un altro punto fondamentale capire quali sono i tuoi valori i valori sottendono alla domanda che cosa è importante per me perché è davvero utile che quest'uomo o l'uomo che ti piace abbia dei valori simili ai tuoi perché noi non possiamo oltraggiare i nostri valori non possiamo far sì che qualcuno diciamo oltraggi i nostri valori e questo è la cosa fondamentale i valori sono ciò che veramente è radicato dentro di noi rappresentano un po' il codice etico rappresentano quella che potremmo chiamare la nostra coscienza morale il nostro codice etico e d'altra parte ovviamente i valori sono diversi dipendono dall'educazione fondamentalmente anche i mafiosi avranno dei valori saranno il codice d'onore ma sono dei valori quindi ognuno ha i suoi valori beh all'uomo piace una donna che non gli rompe le scatole questo fa parte sempre del discorso logico-razionale no Robertino ma emotivamente potrebbe piacergli anche una donna che invece lo stimola anzi soprattutto una che non gli rompe le scatole come dici tu certo inizialmente su un piano emotivo va bene però poi dopo una ad esempio che gestisce bene gli antagonisti come dicevo nell'ultimo punto sa amplificare i turbamenti in realtà gli dà tormento gli sta dando tormento quindi è molto importante sapere diciamo non rompere le scatole a livello logico invece è correttissimo quello che dice Robertino perché rompere le scatole tra virgolette a livello logico significa innescare meccanismi di difesa quindi è molto importante ma a livello emotivo invece è molto importante andare a stimolare amplificare amplificare il turbamento perché se amplifica e se rigenera il turbamento tutto quello che rigenera fa innamorare tutto quello che appaga fa disinnamorare ecco tenete presente questa massima a livello emotivo tutto quello che rigenera fa innamorare tutto quello che appaga fa disinnamorare quindi la capacità di rigenerare i turbamenti di amplificare di buttare benzina sul fuoco è molto importante nella seduzione ovviamente non è l'unica parte perché se tu non tieni conto che appunto che ci sono anche altre situazioni situazioni logiche situazioni di meccanismi di difesa che possono innescarsi non riesce a sedurre a nessuno e queste sono le strategie che vi suggerisco per conquistare un uomo detto questo iscrivetevi al canale e abbonatevi al canale